L'importanza di questo evento è la cooperazione, è l'obiettivo di poter far sì che tutti i paesi possano guardarsi in faccia, traguardare degli obiettivi comuni in ordine agli aspetti scientifici che possono essere determinanti dall'aspetto della health e della telemedicina. L'obiettivo vuole essere proprio una cooperazione tra i popoli e l'obiettivo che ci vogliamo prefiggere è proprio questo. Io da project leader della Health Policy Commission promozioniamo l'obiettivo di poter portare avanti i temi che riguardano la salute. Uno di quei temi di quella salute è chiaramente legato anche alla health, è sicuramente uno degli obiettivi.